grandissimo Gigi da dove facciamo un grande applauso al capitano insomma storico della nazione italiana e adesso prego il padrone di casa venga abbiamo festeggiato le nove interviste insieme un grande applauso al presidente Enzo Schirriba a te la parola ragazzi vi ringrazio ho poco da dirvi perché Enzo Schirriba il vostro nonno che ha vissuto le altre edizioni in passato mi hanno chiamato il nonno del mini basket il nonno della Ione Cup di Locke adesso questo nonno va sempre più avanti negli anni e quindi è un po' stanco ma non per questo demordo non per questo mi tiro indietro anche ho detto a mio figlio e a tutto lo staff che ha organizzato anche se sono in barella fatemi vedere i ragazzi che ringrazio tutti quanti di tutte le regioni che siete intervenute siete venuti fino all'Ocri per fare questo torneo io non ho parole che per ringraziarvi spero di rivedervi ancora l'anno prossimo e buon proseguimento di serata e buon proseguimento per questi giorni devo fare un ringraziamento particolare al comune di Locke che ci dà ancora una volta la possibilità di realizzare tutta questa questa ambaradana questo grande disordine ma ben colorato che voi portate in questa piazza per me e per loro credo che sia motivo di orgoglio e di grandi ringraziamenti buon proseguimento grazie mille grazie mille